Bentornati su MyFootballJersy. Oggi vediamo una maglia, una tuta, scusate, di allenamento per il Brasile per gli anni 2022-2023. Questa tuta di allenamento del Brasile per l'annata 22-23 presenta pantaloni neri e una giacca color verde acqua. Nella giacca sono presenti rifiniture di un verde brillante molto belle. Le maniche presentano un motivo astratto di un verde leggermente più scuro. Nella giacca i loghi sono neri, mentre nel pantalone sono di colore verde simile al colore della giacca. Una tuta elegante, calda e confortevole che non vi farà passare inosservati. Cosa ne pensate? Secondo me questa è molto bella e nella mia classifica prende quattro stelle. Mi piace molto questo colore verde chiaro, mi piace molto questo motivo e poi comunque la tuta del Brasile ha sempre un suo fascino. Qui in alto vedete il costo, che aggiungere se non che è bassissimo, veramente incredibile che una tuta fatta così bene costi così poco. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan.